Colpo di scena nelle indagini per la morte di Maria, la bimba di 9 anni che nel 2016 era stata rinvenuta senza vita, annegata nella piscina di un resort di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. Ci sono quattro indagati, ma non ci fu violenza. Francesca Coppola. Dopo quattro anni di indagini e perizie, il giallo della morte di Maria Ungureano assume altre tinte. La procura di Benevento arriva alla conclusione che la tragica fine della bimba rumena di 9 anni, trovata senza vita, annegata nella piscina di un albergo nel Sannio, è stata provocata da un incidente. Cadono nel nulla le accuse di omicidio volontario e di violenza sessuale contestate a Daniel Ciocan. L'operaio 25enne e sua sorella Maria Cristina sono indagati, ma per abbandono di minore, nell'avviso di conclusione delle indagini del procuratore aggiunto Giovanni Conso e dei carabinieri, anche i nomi di Antonio Romano, proprietario del resort in cui fu trovata morta la piccola Maria, e della figlia dell'albergatore Daniela Romano, responsabile della sicurezza della struttura. Questi ultimi vengono accusati di omicidio colposo per non aver impedito l'accesso alla piscina in un momento in cui l'albergo era chiuso. La bambina quel giorno era con Daniel Ciocan, allora 21enne, conoscente del padre di Maria. L'operaio ha sempre dichiarato di averla portata con sé per andare a trovare la sorella e di averla poi lasciata viva nei pressi dell'agriturismo. Maria, che viene fatto rilevare dalla procura, non sapeva nuotare, fu trovata senza vita e nuda, e vestiti accuratamente piegati sul bordo della piscina. Furono in seguito rilevati segni di violenza sessuale, in un primo momento attribuita al giovane operaio un reato, di cui ora, nella conclusione delle indagini, non c'è traccia. Grazie. Grazie.